Allora, non sarà una lezione quella di Officina Nera, sarà una chiacchiera, un seminario, ma voglio darvi il primo trucco, che si chiama la tecnica del pomodoro, non l'ho inventata io. Pomodoro come il timer della cucina. Tutti noi siamo distratti quando scriviamo, cerchiamo di concentrarci, perché ci sono mille cose, i social, la televisione, vogliamo andare a farci un caffè, fumare una sigaretta. Ecco, la tecnica del pomodoro ti limita. Come fai? Prendi un timer da cucina, segni 25 minuti, lo metti lì, e fino a quando non suona il timer, tu scrivi e non ti fermi, non ti distrai, è un buon sistema per evitare le distrazioni e vedrete che un po' alla volta scriverete tantissimo, questo e altro all'erezione di Officina Nera.